Non si vive più, c'è le siringhe, si trova, ogni cosa qui. È un problema grosso con questa gente, altra parte così, però non è giusta. Non è difficile trovare segni di consumo di droga, siringhe usate e abbandonate all'interno del parco del Pionta. Nella palazzina che vedete alle mie spalle è stato rilevato proprio appunto questo consumo, in particolare queste sono le foto che ci ha inviato una cittadina dove appunto si vedono i segni evidenti di un continuo consumo di droga. Queste foto sono di alcuni giorni fa. I tossicodipendenti pare si fossero messi proprio su queste scale del servizio veterinario per consumare una dose di droga. Nelle parti più nascoste del parco, come quella dove ci troviamo in questo momento, questo è il retro di una palestra che viene utilizzata dagli studenti. Adesso ovviamente è chiusa, anche qui ci sono tante siringhe abbandonate. Insomma, i segni del consumo ci sono, ma il parco del Pionta, secondo la maggioranza dei cittadini che lo frequentano ogni giorno, ora è più vivibile. Nella nostra passeggiata infatti incontriamo persone che lo attraversano a piedi, in bicicletta, un gruppo di ragazzi che fanno allenamento e chi porta a spasso i bimbi nel passeggino. Non c'è più gli estracomunitari, è più tranquilla rispetto a prima. Consumo di droga però vedo tante siringhe. Sì, ci sono che vengono la tarda sera a fare i suoi giri in questo modo qui, però rispetto a prima è molto meglio, non ci sono più, diciamo, no, prima c'è i gruppi qua e là, ora non ci sono più. Si vive un po' meglio. Sì, sì, si vive molto meglio. Lo frequenti con tranquillità comunque? Sì, 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 ma assolutamente. Cioè tutte le volte che ci sono venuto è sempre stato un bel parco, tranquillo, senza problemi. Sapevo che qualche anno fa c'era un grosso problema, quello sì, però, boh, non lo so, avevo sentito, hanno fatto una maxiletata, avevano beccato un sacco di gente. Meno male, perché si sta molto meglio, almeno uno può mettere un teno lì tranquillamente, prendere un po' di sole. Lo spaccio invece si sarebbe spostato nella zona di Campo di Marte. Ha mica notato ancora un po' di, non so, siringhe abbandonate nel parco? Ma io, la prima cosa, non ci passo quasi mai di qui, perché ho avuto paura di quelli che c'erano, ora si sono messi laggiù, che si sono messi a fare lì, che non ci si può portare neanche i nipotini noi, nemmeno giù, lì, a quel giardino, lì, quello laggiù. Ancora ci sono anche qui ora, poi in quel parco laggiù c'erano ieri, che sono passata, che andavo dal mio figliolo, ci sono. E come si fa qui andare avanti così? Che non ci deve uscire casa noi, che si ha paura. Come si fa qui? Qui bisogna che li levano anche laggiù, quel giardino che era un giardino, il più bello giardino, ci si portava bambini piccolini, ora non ci si può neanche andare più noi. Si sono spostati? Si sono spostati da qui, sono andati laggiù. Bisognerebbe che laggiù che li mandassero dall'altra parte. Ma no perché siamo rassisti, però non si vive più.